Segnali di predissesto finanziario sono quelli che arrivano da Palazzo di Città ad Andria con la convocazione per lunedì prossimo alle 12 della prima commissione consigliare permanente. All'ordine del giorno c'è la discussione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale richiesta di accesso a fondo di rotazione. Per dirla in maniera meno tecnica il comune di Andria dichiarerà il predissesto finanziario. La proposta di delibera che verrà discussa in commissione verrà portata all'attenzione del Consiglio Comunale nella seduta di mercoledì 29 agosto. Appuntamento dal quale non si potrà derogare come invece è accaduto all'inizio del mese perché incombe la diffida della prefettura della BAT sull'approvazione dei disequilibri di bilancio, c'è un disavanzo accertato di 11 milioni di euro, e sulle soluzioni per portare i conti in pareggio. L'unica strada percorribile come si paventa da tempo è quella della dichiarazione di predissesto. In pratica, con la richiesta di accesso al fondo di rotazione sulla quale si dovranno esprimere il Ministero delle Economie e delle Finanze e la Corte dei Conti, il comune di Andria spalmerà i propri debiti sui prossimi 30 anni, ma dovrà anche affrontare una serie di ristrattezze finanziarie. La contestuale approvazione della delibera con l'accertamento del disequilibrio e quella con il ricorso alla procedura di riequilibrio è un passaggio obbligato dalla Prefettura, che non ha concesso i 30 giorni di tempo auspicati dal sindaco Nicola Giorgino, disponibile sia a dichiarare il predissesto, ma solo dopo aver percorso tutte le strade possibili per mettere a punto un sostanzioso piano di rientro. Salvo colpi di scena dell'ultima ora, in occasione del Consiglio di mercoledì passerà la linea di Pilato Nespoli, i due esponenti di Forza Italia che sin dal primo momento avevano spinto per la dichiarazione del predissesto finanziario.